Meno precarietà. L'Inps certifica che il Jobs Act sta facendo crescere il numero di contratti a tempo indeterminato. Nei primi sei mesi dell'anno, con la riforma che è entrata in vigore solo ai primi di marzo, aumenta la stabilità lavorativa degli italiani rispetto allo stesso periodo del 2014. Numeri consistenti che lasciano spazio a pochi dubbi. Una buona notizia per il Governo, che è già alle prese con la prossima legge di stabilità da presentare entro fine settembre. Molte le ipotesi sul tavolo, dall'abolizione delle tasse sulla prima casa, al taglio del costo del lavoro, dalla possibilità di andare in pensione prima del previsto, al reddito minimo per gli over 55. Per quanta flessibilità Renzi e Padoa non terranno da Bruxelles, per quanto efficace sarà la spending review sui costi dell'amministrazione pubblica, comunque non si potranno realizzare tutte queste ipotesi. La possibilità di andare in pensione prima dei prerequisiti minimi, con una penalizzazione sull'importo dell'assegno, appare come la più probabile, purché incida poco sulla spesa previdenziale. Da tempo il Ministro del Welfare Poletti ne parla, e sembra ormai che questa riforma sia destinata ad essere approvata. Le indiscrezioni di stampa parlano di una decurtazione del 3% per ogni anno di anticipo. L'aspetto più delicato sarà trovare il giusto equilibrio. Se sarà troppo punitiva la penalizzazione, infatti, si rischia un flop come l'anticipo del TFR, scelto da un misero 0,1% dei lavoratori. Ma se si eccede nel senso opposto, potrebbe esserci un forte contraccolpo sulle finanze pubbliche.